Il contenuto di queste bellissime confezioni è il seguente, troviamo un omaggio esclusivo da bellearti.it, un assortimento di tre pennelli ideali per qualsiasi tecnica, una tavolozza che funge anche da coperchio per la confezione, e un assortimento di 10 colori ad olio, matite da disegno, gomma pane, tempera matite e lo spazio per riporre i pennelli. Veramente conveniente questa confezione con 26 colori ad olio, una tavolozza, due pennelli in una bella scatola in legno, una colorazione vintage, color verde scuro.